o l'enigma estroflesso della tecnica mista di Van Egan. È un'unione, una fusione tra artisti estremamente moderni. Il premio alla carriera va a Lucas Van Egan, con l'opera Enigma. Artista valese di grande talento, che fonde il vero artistico e il vero naturale. Egli riscopre il piccolo tra artista e indicazione della natura, mettendo in atto in modo esemplare un inganno percettivo, finalizzato a un ritorno dell'armonia originale tra uomo e natura. Prego. Quando vi vengo, rifletto sulle semplici cose. Pensando a piante bianche e pietanze e al lavaggio di piatti. Penso al dolce di grande e lanzana che ha sommigliato la scarpetta da palladino. Penso anche a cose più importanti, a mia moglie, a me, a mio figlio, a miei amici e eventualmente a mio gatto. A volte penso alla vita, poi all'amore e alla morte. E talvolta penso a una sorta di eternità. Il tempo si ferma e io posso smettere di pensare. Io sento, seguo la mia intuizione. E questo è il senso di questa nostra... Venti, dipingami... Non ho mai pensato di poter vincere un premio all'academia. Che grande e che nobore vuole questo prezzo. Bellissima vostra e vostra studenti la città. Grazie, il cuore. Evo rinanziato, soprattutto, Daniele. La persona che mi ha scoperto e che mi ha invitato tre anni fa. È stato Daniele a creare per un'artista la concienza dell'estetica per il Paranusiaca. Lo schilibrio della bellezza, la realità, il diritto. Spero e credo che questo riconoscimento sia per me una nuova forza di spiegazione. Composo, patente. Grazie. Grazie. Grazie.